Fuori uso l'attacca al Santimotio di Termoli. Si tratta del secondo guasto nel giro di pochi giorni, una situazione che inizia a pesare e che ha di nuovo creato parecchi problemi sia ai pazienti che sono stati trasferiti in altri ospedali per le urgenze, sia perché aveva l'importante esame diagnostico prenotato da tempo e ora costretto ad aspettare ancora. Con l'estate alle porte e l'inevitabile maggior afflusso di persone, un apparecchio così importante non può essere ostaggio di continue manutenzioni. Due anni fa, con l'attacca sempre fuori uso, arrivò in ospedale il 47enne di Larino Michele Cesaride, che poi morì pochi giorni dopo a San Giovanni Rotondo per le conseguenze di un'emorragia cerebrale. Solo pochi giorni fa l'inaugurazione al cardarelli del nuovo centro diagnostico all'avanguardia, con tacca e risonanza di ultima generazione. Anche per Termoli è stata già acquistata una nuova tacca, ma ci sono rallentamenti dovuti alle procedure tecniche proprio per la gara d'appalto per l'installazione. La scorsa settimana a Lasrema ha sollecitato all'ufficio tecnico un cronoprogramma, considerando che la gara è stata già completata. Non si conoscono ancora però i tempi concordati. L'imperativo però che ora arriva dal territorio è fare presto. Entro la giornata di oggi, intanto, l'apparecchio del Santimotio dovrebbe essere riparato.